Grazie. Sulla nazionale mi chiesto, il tuo giudizio su dove può arrivare l'Italia e il Fandegli e secondo chi è la favorita primaria? La risulta è sempre l'idea, perché riesce sempre a essere competitiva. La favorita non so forse Brasile, ma è anche la stessa Germania. Grazie. Ecco, questa era un appendice all'ora delle schierate.